Edgar Hoover fu direttore dell'FBI sin dall'atto della sua creazione, che fu lui il primo direttore di questa importante struttura investigativa americana e vi rimase fino alla sua morte perché Edgar Hoover utilizzò l'FBI anche per spiare i più importanti uomini di potere, i più importanti personaggi americani e quindi siccome era in grado di ricattare chiunque, nessuno osava toccarlo. Edgar Hoover dice questa cosa qui, l'individuo, e quindi sta parlando di noi popolo, viene menomato dall'impatto di una cospirazione talmente mostruosa da rendergli impossibile ammetterne l'esistenza. Menomato è una parola molto grave, cioè noi siamo endicapati in tanti aspetti della nostra vita e non lo percepiamo perché ci mancano importantissimi dati di base che sarebbero necessari per comprendere lo stato della nostra menomazione. Vi assicuro che è così. Il complotto, la cospirazione è talmente pervasiva, talmente inserita sin nelle parti più intime del tessuto sociale e quindi della nostra stessa persona che è davvero difficile comprenderla. Ed è a tutti i livelli, persino i colori di Marte o i colori della Luna. È un tema complessissimo, io sono quasi 30 anni che studio queste cose e ogni giorno ne scopro una nuova. È tutto un inganno, è tutta una truffa. È una truffa il denaro, è una truffa la scienza, è una truffa la politica. Ad esempio, quanti di voi sanno che l'Italia non è una repubblica parlamentare ma è una società di diritto privato iscritta alla SEC americana, Security Exchange Commission? Quanti lo sanno di voi? Eppure è facilissimo, basta andare su internet, sul sito della SEC. Se tu digiti Barilla, viene fuori la Barilla. Se tu digiti Benetton, viene fuori Benetton perché è iscritta alla SEC, perché l'Italia è sotto giurisdizione americana, perché noi siamo stato sconfitto in guerra. Se digiti Italy, viene fuori l'Italia. È una società di diritto privato. Il Parlamento è un consiglio d'amministrazione che fa affari. Tutti gli organi dello Stato hanno partita IVA. E noi non sappiamo niente di tutto questo. Come non sappiamo, ad esempio, che quando veniamo iscritti all'anagrafe viene generato un documento occulto parallelo e al decimo anno di età viene messo un bond di 2 milioni di dollari a nostro nome, che viene quotato in borsa e gestito da altri però, non viene gestito da noi. Tutto verificato, non vi sto raccontando fantasie. È tutto così. Noi viviamo sotto una schiavitù terribile mascherata che ci deruba di tutti i preziosissimi beni che il pianeta possiede. C'è un gruppo elitario che si è arricchito in maniera mostruosa e spaventosa, prendendo potere di tutte le istituzioni, di tutti i media e manipolando l'informazione per tenerci all'oscuro di tutto, persino dei colori di Marte, persino dei colori della Luna. Quindi il fatto che oggi io parli di Marte è legato a tutto questo. Quindi non è tanto perché dobbiamo fare un bellissimo viaggio sulla vera natura di questo pianeta gemello della Terra, ma è perché anche Marte fa parte di questa mostruosa cospirazione che occulta alle nostre coscienze la realtà a tutti i livelli, da quello intimo personale fino ad arrivare a quello astronomico. Ora faccio un esperimento, un piccolo test. Allora vi farò vedere quattro foto, sono dei paesaggi ripresi dall'alto, sono fotografie aeree, chiamiamole così. Quindi sono grandi estensioni di territorio. e vi chiederò che cosa vi vedete. Cosa vedete qui? Acqua. E qui? Queste macchie scure cosa potrebbero essere? Se ci fate caso, facendo un'analisi orografica, quindi la forma del territorio, vediamo che le rive di questo lago sono più scoscese, mentre invece sono più dolci, qui probabilmente il vento soffia in questo senso, e quindi qui la spiaggia è più erosa, tra l'altro si vede la trasparenza, si vede anche il fondale, mentre invece qui la costa è più scoscesa. Qui cosa vedete? Altra acqua. non vi metto il vuoto, e quindi potete... E qui ovviamente cosa può essere tutta questa cosa qui? Una foresta. Qui cosa vedete? Cosa sono queste cose qui? Alberi. Alberi, benissimo. E qui? vegetazione. Bene, sono tutte foto di Marte. Queste sono foto da me scaricate personalmente, quindi non trovate su internet a casaccio, dal sito dove la NASA ha archiviato le centinaia di migliaia di foto scattate nell'arco di vari anni, dalla Mars Global Surveyor, con la telecamera di bordo, che si chiama Mars Orbital Camera, MOC. Foto scaricate direttamente dal sito della NASA. Quindi voi avete visto acqua, vegetazione, acqua, vegetazione, alberi, tra l'altro la dimensione di questi alberi è di circa un chilometro, e vegetazione su una specie di, chiamiamolo, tundra o non proprio un deserto, ma così. Bene, gli scettici o i denigratori dicono che questo è un fenomeno di pareidolia. La pareidolia è quella particolare attitudine del nostro cervello di identificare in forme casuali della natura qualcosa che per noi ha un significato. Quindi in questo marmo di questa chiesa vediamo questo volto, che sembra con una tiara, quindi un celebrante, un sacerdote, nel marmo della balaustra di una chiesa. In questa corteccia vediamo abbastanza chiaramente una faccia, la bocca, il naso e gli occhi, e qui ho un Cristo oppure anche una donna. Ecco, dicono i denigratori che questo qui è pareidolia. Andiamo a vedere se veramente questa è acqua, alberi, vegetazione, se è davvero così o se è pareidolia. Anche perché essendo foto scattate da quota orbitale, sono cose di dimensioni, qui vi ho detto, questi alberi hanno il diametro di un chilometro circa, perché essendo l'atmosfera marziana molto più rarefatta, la vegetazione in certe zone, qui siamo vicino al polo sud, ha generato una forma di gigantismo per captare l'umidità, cioè l'acqua che gli serve per la sopravvivenza. Quindi iniziamo questo piccolo viaggio spaziale e andiamo a vedere Marte. Intanto vi faccio vedere una cosa, è una foto recentissima, la conoscete? Chi la conosce questa foto? Eh? Come? No, questo è Plutone, con la sua bellissima atmosfera blu. Ah, bello, eh? Lo sapevate che Plutone ha l'atmosfera blu ed è pieno d'acqua? L'hanno detto. Hanno detto che Plutone è pieno di ghiaccio, però è rosso. Evidentemente si è rotta qualche botte di barolo che si è mischiata con l'acqua. E' tutto così, amici. Cioè, se c'è qualcosa di simile alla Terra, però deve essere diversa, deve essere aliena, perché noi ci dobbiamo sentire sempre soli, isolati. Chi è solo ed isolato ha paura. Chi ha paura chiede protezione. E loro sono ben felici di darci protezione in cambio della nostra pelle o del nostro sedere, se vogliamo essere volgari. Quindi, vi ho fatto vedere Plutone, perché è una delle ultime foto mandate dalla sonda New Horizons, che è in orbita su Plutone, che sta scattando delle bellissime immagini di questo pianeta lontanissimo, miliardi di chilometri, ci ha impiegato quasi dieci anni la sonda ad arrivarci. e, con immenso stupore degli scienziati, hanno trovato atmosfera, nuvole, montagne, fiumi, ghiaccio d'acqua rosso, dicono, poi non lo so perché, praticamente li fanno vedere in bianco e nero. Cioè, la macchina fotografica è a colori, come vedete da questa bellissima foto, però ce le fanno vedere in bianco e nero, esattamente come hanno fatto per queste foto qui di Marte, perché è assurdo spendere milioni di dollari per mandare una sonda su Marte e poi montarci a bordo una macchina fotografica in bianco e nero. Sono a colori, ma non ne trovate manco una, tutto l'archivio digitale che la NASA ha messo online della MOC, Mars Orbital Camera, è tutto in bianco e nero, perché se lo facessero a colori, si vedrebbe l'azzurro dell'acqua, si vedrebbe il verde della vegetazione e non ce lo vogliono far vedere. Io ho trovato una sola foto per adesso di Marte scattata dalla MOC a colori e ve la farò vedere dopo. Quindi ho la prova provata che la MOC, la Mars Orbital Camera, è in grado di scattare senza nessun problema foto a colori. Quindi se ce le mostrano e le archiviano al pubblico in bianco e nero, ci deve essere un motivo. Questa credo che la conosciate tutti, no? Questa è Marte, così come ci viene mostrato la maggior parte delle volte con questa gigantesca ferita che sembra prendere un intero emisfero, ma in realtà è un altro inganno. Cioè questa ferita esiste, ma non è così grande e adesso lo andremo a vedere. Allora, questa foto di Marte è un collage, è un puzzle di immagini scattate dalla sonda Viking negli anni 70 che non aveva, diciamo, la capacità di riprendere, per quanto ne sappia io, l'intero pianeta e quindi dall'orbita ha scattato con questa definizione, ovviamente la sonda durante l'avvicinamento poteva benissimo scattare foto di Marte, ma con questa definizione si è dovuta avvicinare di più, quindi scattando pezzetti, scattano a strisce, cioè fanno delle strisce perché le telecamere sono in orbita e quindi facendo il giro del pianeta, scattano delle strisce che poi vengono composte fino a ottenere l'immagine totale. Ebbene, questa quindi non è un'immagine intera del pianeta Marte, ma è un puzzle di sezioni, di stringhe, di immagini che sono state attaccate fino a ottenere questa foto qui. Ma non è vera, non è Marte questo qui, è solo una parte di Marte. Quindi sono foto addirittura del 1976, nonostante Marte sia il pianeta più visitato dalle nostre sonde, in assoluto. Nessun altro pianeta ha tirato, del sistema solare, ha tirato l'attenzione di Marte, scusate, l'attenzione della scienza così come Marte. Intanto vediamo una cosa, questo Marte è un'immensa roccia secca e sabbiosa. Non si vede niente che possa in qualche modo darci l'idea che possa ospitare la vita, giusto? È una grande roccia, non ha nessun polo, non c'è niente. Solo, come ci viene detto, Marte è tutto arancione, l'atmosfera è pure arancione, è un immenso deserto arancione. Prendiamo in esame qualche foto scattata con telescopi domestici da Terra e andiamo a vedere queste foto del 1971-73, dove notiamo già una differenza non da poco. La vedete? Marte ha i poli, c'è del ghiaccio qui. Addirittura qui ce n'è tanto, quindi probabilmente siamo d'inverno, qui ce n'è meno, probabilmente siamo d'estate. E poi in queste foto, quindi siamo 71, siamo quasi 40 anni, più di 40 anni fa, quindi con strumenti ottici di quell'epoca. Però vediamo già in queste foto di oltre 40 anni fa che ci sono delle zone molto scure, che qui non ci sono. Ci avviciniamo nel tempo. Queste sono varie facce di Marte scattate più recentemente nella stessa notte. e qui il polo è molto grande, quindi il pianeta è leggermente ruotato in modo da mostrare il polo sud più verso di noi, il polo nord non si vede. Però vediamo con maggiore chiarezza delle grandissime distese marziane estremamente oscure. E qui, ora c'è un po' di riflesso della luce, però qui si intravede un po' di un altro colore, che è azzurrino. Quindi avevamo quelle foto scattate dalla Viking, quel puzzle di foto che è stato usato per dire che quello è Marte. e abbiamo queste foto scattate con telescopi domestici da terra, quindi con tutti i problemi della nebulosità e mancanza di chiarezza causate dallo strato atmosferico, che non permette una visione chiarissima a causa delle turbulenze dovute a diversi strati d'aria con diverse temperature, e quindi Marte risulta sfoccato, però c'è un'evidente assurdità che da terra vediamo con chiarezza i poli ghiacciati di Marte, vediamo queste zone estremamente scure, vediamo un leggero colore azzurrino, che nella foto spaziale scattata dalla stessa orbita di Marte non c'è. Quindi quella foto è un trucco. Poi viene questo signore qui, il telescopio spaziale Hubble orbitale, che è in grado di scattare, grazie al suo superpotente obiettivo, è in grado di scattare foto addirittura delle galassie più lontane, e quindi con un aggeggio del genere scattare foto dei pianeti del sistema solare è un gioco da ragazzi. Qualche dato tecnico su Hubble. La sigla è Hubble Space Telescope, dal nome in inglese di Hubble Space Telescope, è un telescopio posto in orbita attorno alla Terra, negli strati esterni dell'atmosfera, a circa 560 chilometri d'altezza. Ed è stato lanciato con uno shuttle Discovery il 24 aprile del 1990, quindi è in orbita già da 25 anni. Ha una velocità orbitale di 7,5 chilometri al secondo e in soli 92 minuti compie un'orbita. È costato 2,4 miliardi di dollari ed è un progetto congiunto dell'ente spaziale americano, NASA, e dell'ente spaziale europeo, ESA. E adesso vi faccio vedere una bellissima foto di Marte scattata con questo aggeggio qui. Non c'entra nulla. Non c'entra niente. Ci troviamo di fronte a qualcosa di totalmente differente. Vediamo intanto con maggiore chiarezza, mentre in quelle foto che vi ho fatto vedere scattate da Terra, si intravedeva, poi nel monitor del computer era estremamente più chiaro, ma si intravedeva, soprattutto al Polo Nord, si intravedeva una leggera foschia azzurrina. Qui si vede con grandissima chiarezza. Si vede un sistema nuvoloso. Si vede con grandissima chiarezza il Polo ghiacciato, e qui si intravede, di Marte. E si vedono anche queste zone scure, così come si vedevano da Terra. Ve ne faccio vedere una serie di foto scattate. Questa è del 95, questa è del 96, sono facce differenti di Marte. Vedete quante sono grandi queste zone scure? Guardate qui, un'altra faccia di Marte, guardate quanto sono scure queste zone. Qui si vedono benissimo i due poli. Sempre si vede l'azzurro dell'atmosfera. Guardate qui, sistemi nuvolosi. E queste strane, o diciamo queste zone scure, che sono indicative di qualcosa che ci viene occultato. Questa è una rarissima foto dell'altra faccia di Marte, non la fanno vedere quasi mai, dove si vede che questa faccia opposta di Marte è quasi tutta scura. mentre l'altra faccia, che di solito ci viene mostrata, è quasi tutta desertica. Ora, siccome abbiamo qui un emisfero marziano e qui abbiamo l'altro emisfero marziano, dov'è quella gigantesca ferita che si vede qui? Non si vede. Se noi prendiamo i due emisferi di Marte, non si vede. Perché non si vede? Perché quel Marte lì, sapete come hanno fatto? Hanno preso una zona desertica di Marte, piccola, poi con un banalissimo programma tipo Photoshop, l'hanno fatta diventare una sfera e ci hanno detto che quella è Marte. È la stessa cosa che venissero dei marziani sulla Terra, fotografano il deserto del Sahara e basta, lo fanno diventare una sfera e poi tornano su Marte e dicono ai marziani la Terra non ha vita, è tutta deserto. Vedete? Questa è la foto. Un fatto del genere non può essere una svista. Hanno deciso di farci vedere Marte in quel modo lì. Hanno deciso di farci vedere Marte senza farci vedere di Marte le nubi, i poli e le zone dove c'è vegetazione. Infatti, quelle foto in bianco e nero dove voi avete visto acqua e vegetazione sono foto che sono state scattate in queste zone qui, vicino al Polo Sud. Vediamo alcune altre foto più recenti. Queste sono del 99 scattate dall'astrofilo Antonio Sidadao portoghese e vedete che con l'avanzare delle capacità tecniche dei telescopi anche domestici la vera natura di Marte si vede molto ma molto più chiaramente. Vediamo i sistemi nuvolosi. Guardate qui quanto sono estesi. Vediamo le zone dove c'è la vegetazione. Altri sistemi nuvolosi. Guardate quanto sono grandi. E i poli. E si vede anche da Terra l'atmosfera. Perché nelle altre foto Marte era principalmente rosso? Perché la radiazione rossa, il colore rosso è quello che passa più facilmente. Quello che arriva più lontano. Quindi con telescopi di relativamente bassa sensibilità la gamma di spettro che si coglie con maggiore chiarezza è il rosso. Con telescopi più sensibili e più moderni vedete che si riescono a vedere e a captare anche le altre bande di colore e quindi vediamo che Marte non è così rosso come ci volevano far credere. Qui abbiamo delle foto scattate da Fabio Volpe un astrofilo italiano. Stesso discorso. Vedete queste grandi zone scure di Marte i poli qui abbiamo un sistema nuvoloso che qui è piccolo diventa sempre più grosso e abbiamo soprattutto ovviamente al bordo perché è più spessa la parte di atmosfera che si vede abbiamo il colore azzurrino. Altre foto bellissime sempre scattate da Fabio Volpe vedete che il colore di Marte il vero colore di Marte oggi si vede anche dalla Terra. Qui abbiamo una bellissima foto scattata da un telescopio diciamo scientifico che è il telescopio di Flagstaff in Arizona telescopio Lowell dal nome del famoso astronomo e anche qui vediamo con grandissima chiarezza l'atmosfera di Marte e vediamo il polo sud marziano. quindi il vero Marte è questo qui dalla Terra con Hubble queste due e questa è la foto della Mars Global Surveyor della MOC una foto grandangolare quindi è un po' deformata scattata nel 98 quindi questa foto dimostra assolutamente che la Mars Orbital Camera poteva scattare a colori ma gli archivi NASA io ci entro ogni tanto perché vado sempre cercandomi cose e me le scarico ovviamente dalla NASA non vado sui siti o se trovo informazioni su siti che non sono della NASA dopo mi vado a cercare gli originali nel sito della NASA perché devo ovviamente mostrare al pubblico materiale verificato e questa foto è una foto ripeto del Mars Global Surveyor che è chiaramente a colori e i colori sono quelli fotografati da Hubble o fotografati da Sida Dao da Terra quindi il vero Marte è un pianeta che ha gli stessi colori della Terra tra l'altro qui è Wikipedia questa è la proporzione Marte è quattro volte più piccola della Terra e vedete nel confronto delle dimensioni prima c'era il falso Marte cioè quel collage di foto del 1976 nel 2012 si sono decisi hanno tolto il falso Marte e ci hanno messo una delle foto scattate da Hubble di Marte lo vediamo con più chiarezza nell'immagine ingrandita quindi abbiamo la Terra e abbiamo Marte il falso Marte cioè non falso perché non siano foto di Marte ma questa è solo una piccola sezione di Marte dove vedete la grande ferita che ha distrutto gran parte della vita su Marte compresa la civiltà che vi esisteva ma è solo una piccola parte di Marte non è Marte tutto intero e queste come Wikipedia e oggi ci ha messo una vera foto di Marte totale e mettendoli entrambi a confronto è scandaloso scandalosa la differenza tra questa foto e questa qui ma nella maggior parte delle volte quando vengono date notizie sulla stampa o nei TG o nei programmi pseudoscientifici alla Piero Angela ci viene mostrato sempre questo non ci viene mostrato questo quante di voi conoscevano che Marte era così? una persona due persone due persone e la percentuale a livello di società è la stessa cioè la maggior parte delle persone a tutt'oggi quando gli dici ah sai su Marte c'è vita si mettono a ridere perché gli viene in testa questa foto è ovvio che qui non ci può essere vita non c'è atmosfera è tutta roccia tutta brulla desertica e qui è un altro discorso qui anche il più imbecille dice beh cavolo ci potrebbe essere vita in un pianeta che sembra quasi la Terra l'unica cosa che cambia è che non si vedono mari non si vedono oceani vi vorrei far notare una cosa molto importante però allora le foto che vengono scattate dall'orbita sono foto ad alta risoluzione ma comunque una risoluzione relativamente bassa per cui noi certi dettagli non li vediamo infatti in tutte le foto della Terra scattate dallo spazio la Terra appare vuota non si vedono le città non si vedono le strade non si vedono gli aerei non si vedono le navi non si vede un fico secco si vede solo la grande distesa dei continenti si vedono le zone dove vi è vegetazione i mari ma di tutto quello che la società umana vi ha messo sopra non si vede nulla perché dallo spazio la dimensione relativa dei manufatti umani è talmente piccola che la risoluzione della macchina spaziale quando la riprende nella sua interezza non è sufficiente a mostrare i dettagli perché i pixel sono ricoprono zone troppo vaste quindi in un solo pixel vi possono essere svariate centinaia di metri per cui noi non vediamo nemmeno le grandi città che esistono sulla Terra quindi certi dettagli di Marte dalle immagini complessive e orbitali non si vedono andiamo a vedere adesso sempre il discorso del colore partendo da questo Marte falso perché a tutt'oggi le foto scattate dalle sonde che sono sulla superficie di Marte ce le fanno vedere sempre così tutti arancioni perché ci dicono che il cielo di Marte così come il suolo è arancione perché Marte è il pianeta rosso quindi tutte le foto marziane che voi trovate sui siti NASA scattate dalle sonde che viaggiano sul suolo marziano adesso c'è la Curiosity e qualcun'altra dovrebbe essere ancora funzionante non so se la Pathfinder o la Opportunity e quindi questi paesaggi marziani ripresi da Terra sono tutti così tutti arancioni con un cielo arancione vedete ma sono immagini che non sono coerenti con la vera natura di Marte quindi che succede? succede questo quindi prendiamo una delle tante immagini scattate dalla superficie di Marte e facciamo un giochino semplice semplice bilanciamo il colore e vedete che tutto si trasforma cioè le foto che ci vengono mostrate di Marte sono falsificate quindi in questa immagine vediamo bene che il suolo rimane rossiccio ma il cielo diventa azzurro vediamo le altre questa è una foto scattata dal Pathfinder se non erro eccola qui ora fate caso ve le metto a confronto fate caso ad una ad un particolare importante lo stesso paesaggio qui rispetta questo qui è piatto non ha la profondità che ha questo paesaggio qui dove si riesce in qualche modo a percepire la lontananza qui è tutto spiattellato davanti perché ci dà questa impressione perché il nostro occhio è abituato a percepire la distanza anche in base allo strato d'aria che c'è tra noi e il punto osservato che è quel particolare fenomeno che ci fa vedere l'orizzonte o le montagne all'orizzonte azzurrine noi sappiamo tutti che le montagne non sono azzurre ma le vediamo azzurre all'orizzonte perché è talmente grande lo strato d'aria che c'è tra noi e l'orizzonte profondo che taglia tutte le bande di colore e lo strato d'aria ci fa vedere le montagne all'orizzonte azzurre ma noi sappiamo benissimo che le montagne sono verdi marroni grigie quindi l'occhio legge istintivamente la profondità quindi qui l'occhio legge la profondità perché è abituato a farlo normalmente calcolare istintivamente la distanza qui l'occhio non riesce a leggere la profondità perché c'è un velo piatto di colore che tra l'altro scurisce anche la foto qui io non ho manipolato la luminosità della foto ho solo bilanciato il colore ci ho ridato ai colori la loro vera tonalità quindi il grigio del metallo della sonda terrestre ritorna grigio qui è tutto spalmato d'arancione ed è più scuro con meno profondità perché la NASA vi spalma un pantone uniforme trasparente di colore arancione per farci per venderci un Marte alieno addirittura arrivano a queste assurde ma forse anche arroganti perché ci prendono un po' in giro perché dicono che ecco questa era l'opportunity ci dicono che questo è il vero Marte e questo è il Marte in falsi colori quindi dicono che è falso ciò che è vero e dicono che è vero ciò che è falso altra foto di Marte scattata alla sonda Spirit vedete bene anche qui stesso discorso qui le montagne vedete sono distanti e si vedono si percepisce la distanza qui addirittura quasi nemmeno si vedono e la foto è piatta non ha la profondità che ha questa dove si percepisce con maggiore chiarezza l'avvallamento che vi sta dietro questo promontorio si percepisce che questa fascia di montagne è più vicina rispetto a questa invece qui lo ribadisco è tutto piatto quindi bisogna dirgli al programma dirgli guarda che qui c'è il colore bianco e il programma e il programma in automatico ti fa la ritaratura oggi è facile con i programmi dei computer ti tara la foto tirando fuori la vera tonalità delle cose che sono state fotografate infatti qui il bianco delle parti della sonda terrestre è arancione mentre invece se bilanciamo il colore ritorna bianco quindi questi panorami sono coerenti col vero Marte con la foto di Marte dove si vede con chiarezza che l'atmosfera marziana non è arancione è azzurra quindi Marte è così è un pianeta rosso ma io ho girato il mondo continuo a girare l'ho visto un sacco di luoghi con la terra così rossa o ancora più rossa sono andato al deserto di Nazca dove ci sono quelle famose linee e disegni che si vedono solo volandoci sopra ed è di un rosso cupo color sangue di bue ma il cielo è azzurro il cielo di Nazca e la piana di Nazca è talmente piena di ossido di ferro quindi l'ossido di ferro perché vi sono nel terreno nelle rocce altissime percentuali di ferro che a causa dell'ossigeno atmosferico arrugginisce e quindi diventa color ruggine ma ce n'è talmente tanto che è il colore ruggine del ferro vecchio arrugginito che è marrone scuro ecco tutta la piana di Nazca è marrone scuro e nonostante l'altissima percentuale di ossido di ferro della piana di Nazca il cielo non è arancione invece ci dicono gli scienziati che il cielo di Marte è arancione a causa dell'alta percentuale di ossidi di ferro presenti su Marte che appunto lo fanno sembrare rosso ma è veramente rosso Marte ma il cielo è azzurro non è rosso che differenza c'è tra questo paesaggio e un paesaggio della Terra nessuno guardate questa sonda Viking quindi torniamo negli anni settanta fine anni settanta e vediamo che in questo caso questa spianata di una valle marziana c'è anche labrina bianca qui è spiattellata di arancione e persino qui che non si vedono all'orizzonte delle montagne però si percepisce con maggiore chiarezza la profondità del paesaggio mentre invece qui è tutto più piatto a volte succede pure questa è una conferenza stampa della NASA parlavano di Marte e si sono dimenticati e ci hanno messo come sfondo una foto dove il cielo di Marte è azzurro quindi a volte anche loro un po' si sbagliano però sono errori che poi non saltano agli occhi delle persone che comunque sono immerse nei loro problemi e quindi tutti la maggior parte sono convinti che Marte sia quel pezzo di roccia falso scattato dalla Viking e non questo pianeta che vi ho fatto vedere poi nel 2005 viene lanciato questo aggeggio che è il Mars Reconnaissance Orbiter Ricognitorio Orbitale di Marte acronimo MRO che è una sonda spaziale polifunzionale della NASA lanciata appunto il 12 agosto del 2005 lo scopo di questa sonda è l'analisi dettagliata del pianeta Marte allo scopo di individuare un potenziale luogo di atterraggio per future missioni sul pianeta Marte credo che sappiate che la NASA e anche l'ESA stanno progettando il volo umano su Marte tra l'altro sono in piena fase di sperimentazione in zone desertiche simili a quelle marziane di astronauti che si stanno allenando per il viaggio su Marte tra l'altro la NASA ha lanciato anche un bando di concorso per una missione marziana senza ritorno cioè lanciare delle persone che una volta arrivate su Marte continueranno a vivere lì fino a che morte non li separi ebbene le adesioni sono state di decine di migliaia anche dall'Italia cioè c'è un sacco di gente disposta ad andare su Marte senza poter più tornare sulla Terra beh in un certo modo li capisco non c'è Renzi su Marte allora questa sonda ha una particolarità monta a bordo uno strumento fotografico di altissima precisione che è questo aggeggio qui è una super macchina fotografica che ha la lente di mezzo metro ed è stata chiamata iRise iResolution Experiment eccetera eccetera forse l'ho scritto da qualche parte è un grande specchio in una enorme fotocamera questa è una persona quindi vedete le proporzioni CCD quindi è digitale grazie alle sue caratteristiche raggiunge una risoluzione angolare di un micro radiante cioè ha una risoluzione di 30 centimetri dall'altezza di 300 chilometri cioè questa sonda da 300 chilometri ti vede un oggetto grande 30 centimetri le immagini di Google Mars sono disponibili solo fino alla risoluzione di un metro cioè gli oggetti più piccoli di un metro la sonda non li vede cioè li vede indistinti le immagini sono scattate in tre bande cromatiche che è il blu verde e il rosso e l'infrarosso e appunto la iRise incorpora uno specchio primario di mezzo metro ed è il più grande telescopio ottico mai mandato oltre l'orbita terrestre pesa ben 62 chili vediamo un po' la capacità risolutiva questa è la Mars Orbital Camera quella che ha scattato le foto di quel lago degli alberi eccetera eccetera ha la risoluzione di un metro e mezzo rispetto alla iRise che ha la risoluzione di 30 centimetri quindi oggetti più piccoli di un metro e mezzo la Mars Orbital Camera li vede così cioè non si vede nulla questo è un confronto diciamo generazionale questa è la fotocamera per l'epoca di alta risoluzione della Lunar Orbital Camera è uno strumento del 67 grande così qui vedete un martello è un coltellino svizzero questa invece è la fotocamera montata su Lunar Reconnaissance Orbital Camera che è uno strumento del 2009 quindi diciamo sarà su circa 25 centimetri 20-25 centimetri e qui abbiamo il mostro lanciato su Marte del 2005 perché questa grande attenzione su Marte perché lanciare una missione di caratteristiche praticamente militari perché strumenti ottici così precisi non hanno senso solamente per un atterraggio perché non l'hanno messo vedete la Lunar Reconnaissance Orbital Camera questa qui è del 2009 quindi di 4 anni più moderna di questa la Luna è molto più vicina a noi quindi suppostamente più interessante per noi eppure sulla Luna ci hanno mandato questa su Marte ci hanno mandato questa è reconnaissance ricognizione è un termine prettamente militare che stanno cercando su Marte perché dopo aver mandato questa ci hanno mandato una sonda nel 2012 che si chiama curiosità che curiosità ha la NASA o meglio i militari che stanno dietro la NASA in relazione al pianeta Marte è una curiosità militare e come vi dicevo prima tornando al discorso della risoluzione questo è il pianeta Terra questa è l'Italia vedete in una giornata in cui l'Italia era totalmente serena Sardegna Sicilia Corsica Isola d'Elba eccetera e vedete in questa foto che è una foto scattata dagli astronauti dell'Apollo 11 nel 69 non si vede nessun manufatto umano nessuna città non si vede nulla perché appunto la risoluzione delle macchine fotografiche non è in grado da quella distanza e con quella apertura di farti vedere tutto ciò che l'umanità ha messo sul suolo del pianeta l'unica cosa che si riesce a percepire dallo spazio è la muraglia cinese che è lunga migliaia di chilometri è l'unico manufatto umano che si distingue dallo spazio forse è una riflessione che nessuno di voi ha mai fatto ma vista così la Terra sembra veramente un pianeta deserto dove non vi è traccia dell'opera dell'uomo questa è una foto scattata dall'Iraes da Marte ed è talmente potente questa macchina fotografica che da Marte quindi milioni e milioni di chilometri di distanza ha scattato una foto della Terra e della Luna quindi è una super macchina fotografica da ricognizione quindi un termine prettamente militare questa è la Curiosity è un bel trattore è la la sonda robotica più grande mai lanciata fuori dalla Terra nello spazio ovviamente sto parlando di sistema solare perché sulla Luna abbiamo mandato cose altrettanto grosse ma così lontano non avevamo mai mandato niente di così grande qui c'è una delle piccole sonde precedenti guardate la proporzione non so se sia la Spirit o la Opportunity perché poi queste sonde vengono costruite in coppia in modo che quando vi sono dei guasti la i tecnici sulla Terra sulla coppia possono fare delle prove quindi la Curiosity che questo trattore così grande è alto più di 2 metri considerando questa telecamera è un bello oggetto che sta scattando interessantissime foto di Marte che dopo vi farò vedere ma in questo caso voglio farvi vedere guardate questo è l'atterraggio della Curiosity questo è il paracadute questa è la Curiosity fotografata in grandangolare dall'iRise se vedete che nonostante la Curiosity sia un oggetto molto complesso per quanto qui c'erano ancora i palloni di atterraggio no non aveva i palloni aveva un'altra roba questa però si vedono diciamo non si vedono assolutamente i dettagli e queste sono delle questa è una foto scattata da quella super macchina fotografica nell'aprile del 2014 vedete si vedono le tracce lasciate al suolo marziano della Curiosity vedete la Curiosity sta qui un piccolo puntino indistinto di cui non si scorge nessun particolare ma è molto interessante il colore della foto questa è una foto orbitale se fosse vero che l'atmosfera marziana fa tutto marrone come in questo caso scattate da quota orbitale dovrebbe essere molto più marrone a causa dello strato di atmosfera che c'è invece la foto è totalmente compatibile con il vero Marte quindi questa foto così come ce la fanno vedere fasulla cioè taroccata e ribilanciando il colore di questa foto cosa che ho fatto io vedete questa foto questa foto e questa foto sono compatibili quindi la NASA la scienza tutti ci mentono dicendo che l'atmosfera marziana è arancione non è arancione è azzurra adesso vi faccio vedere una carrellata di molto veloce di foto scattate dalla sonda iRise dove vedremo la spettacolare bellezza in parte dei colori di Marte sono siti pubblici della NASA quindi chiunque di voi ci può entrare adesso vi farò vedere anche degli screenshot quindi chiunque tra l'altro hanno creato da relativamente poco tempo anche la versione italiana dell'archivio della foto dell'iRise quindi si può chi si ha desiderio di godere un po' dei panorami e marziani lo può fare tranquillamente da casa propria ecco questo è uno screenshot del sito della NASA vedete iRise High Resolution Imaging Science Experiment e questa è una delle tante foto scattate dall'iRise le potete scaricare sia come clip video le potete scaricare in varie risoluzioni partendo da una bassa risoluzione di 800x1024 fino ad arrivare a una buona risoluzione oltre l'HD che è di 2560x2880 o addirittura in pdf quindi sono foto pubbliche e queste sono varie foto di Marte del suolo marziano scattato dalla iRise vedete il ghiaccio sulle dune la brina quindi sono qui ghiaccio sono foto scattate durante l'inverno queste sono delle dune questo è sotto vento questo è a favore di vento anche qui siamo d'inverno perché è ghiacciata qui si vedono chiaramente delle nubi anche qui che velano il terreno sottostante guardate che belle quindi i deserti sono arancioni ma hanno il cromatismo uguale a quello della terra ribadisco se fosse vero che tutta l'atmosfera di Marte è arancione queste foto dovrebbero essere tutte arancioni così come ce le fanno vedere da terra invece sono foto tra l'altro poi il videoproiettore non rende giustizia sul monitor del pc sono molto ma molto più colorate però già da qui vedete questo è un cratere d'impatto meteorico che ha tirato fuori del minerale dal sottosuolo che è di colori azzurro questo è un altro cratere d'impatto guardate che bei colori c'ha Marte delle dune di materiale nero qui delle dune di materiale celeste qui addirittura violacee azzurrine guardate che belle quindi il vero Marte non ha niente a che vedere con quello brubbrio roccioso che viene spacciato essere non è acqua queste sono minerali quindi Marte è un pianeta vivo geologicamente parlando ma anche atmosfericamente parlando e vi entreremo nel dettaglio ci facciamo un excursus per comprendere e vedere che Marte appunto c'ha le stesse cose che c'ha la terra tranne i mari ma ve ne sono migliaia se ci andate col pc da casa ve ne scaricarete io a volte ci passo le ore perché sono talmente belle e soprattutto la cosa che mi piace di più non ho ancora trovato una busta di plastica è un pianeta vergine nel senso non è sporcato come abbiamo fatto noi del nostro pianeta quindi tutte queste foto non hanno niente a che vedere con questa roba qui ma sono totalmente in sintonia con questo Marte quindi da ora in poi buttate nella spazzatura nell'immondizia quel Marte falso e ricordatevi che Marte ha gli stessi colori della terra non ha più i mari perché questo questa ferita Marte ce l'ha davvero però come avete visto nel Marte reale la ferita in proporzioni è molto più piccola quindi a causa della risoluzione non la si distingue però esiste perché la civiltà marziana che esisteva su questo pianeta e gli oceani di Marte e la maggior parte della fauna e della flora di Marte sono scomparse a causa di un impatto cosmico circa 100 milioni di anni fa 100 milioni di anni fa la civiltà marziana è stata distrutta da un terribile scontro con un asteroide ma oggi Marte è un immenso campo archeologico dove si vedono statue si vedono costruzioni si vedono cadaveri si vedono scheletri si vede di tutto perché appunto quella sonda che vi ho fatto vedere prima la Curiosity ha a bordo a parte questa super telecamera orbitale anche la Curiosity a bordo delle macchine fotografiche di altissima precisione che ci rivelano molti dettagli che non vengono assolutamente mostrati nei media pubblici però prima di arrivare a quello adesso andiamo a verificare che Marte abbia davvero l'atmosfera intanto vediamo già delle foto quindi se c'è atmosfera l'atmosfera è acqua ovviamente ecco queste sono vecchie foto di Marte credo sia stata scattata dalla Viking si vede chiaramente il velo atmosferico rigorosamente anche qui in bianco e nero nonostante la Viking anche essa potesse scattare a colori un'altra foto dove si vede il velo atmosferico marziano poi magari un'altra foto ancora qui si vede ancora più chiaramente lo strato d'atmosfera e poi quando te la fanno a colori te la fanno così cioè ci spalmano quel solito pantone arancione per farci credere che Marte sia arancione invece Marte l'atmosfera non è arancione ma così come Benci ha rivelato Hubble l'atmosfera marziana è azzurra come quella della Terra queste sono foto sempre scattate da Hubble 17 maggio 97 27 giugno 97 con dei grandi corpi nuvolosi vedete che si vedono anche qui guardate lo spessore di queste nubi questa è la valle Valles Marineris che Hubble fotografava perché fu scelto qui come punto di atterraggio del Mars Pathfinder scusate bevo un goccio d'acqua vediamo altre foto questo è un tramonto marziano fotografato dalla Spirit dove si vede appunto l'azzurro dell'atmosfera e questo è un crepuscolo dove si vedono le nubi azzurre scattate dal Mars Pathfinder e quindi Marte è così e il rover Curiosity che è a bordo dei laboratori di analisi ha confermato che un tempo l'atmosfera marziana era ricca di ossigeno avvallando l'ipotesi che avesse potuto ospitare delle forme di vita diciamo che non c'era bisogno perché se Marte è rosso è rosso perché è ricco di ferro il ferro è ossidato quindi diventa arancione ma il ferro si ossida solo se c'è ossigeno se no non si ossida infatti anche il ferro della Luna è ossidato quindi anche sulla Luna seppur in percentuali minori a quelle della Terra c'è ossigeno soprattutto nella faccia esposta alla nostra vista quella un po' più scura che noi chiamiamo mari che a volte dà l'impressione di essere un volto lì la percentuale di ossido è altissima è la zona della Luna dove è più alta la percentuale di ossido di ferro quindi anche sulla Luna vi è ossigeno anche sulla Luna soprattutto ai poli vi è acqua tutte prospezioni fatte da anni dalle sonde terrestri ma di cui la gente non sa nulla e pensa che anche la Luna sia un pezzo di roccia secca tutta grigia con un po' di polvere il laboratorio a bordo della Curiosity ha analizzato la composizione dell'atmosfera di Marte che è in quantità diversa è formata da anidride carbonica argon azoto ossigeno e monossido di carbonio più o meno come la Terra cioè aria le temperature medie e superficiali oscillano tra i meno 140 e i 30 gradi centigradi che è un'enorme escursione termica ma sono le temperature medie se noi andiamo al polo nord della Terra le temperature si abbassano anche al di sotto dei 90 gradi ma l'equatore sono sempre al di sopra dello zero quindi la temperatura media non ci dice nulla ci dice il range estremo quindi probabilmente ai poli si arriverà a meno 140 ma all'equatore com'è la storia non ce lo dicono o se ce lo dicono ci mentono vediamo immagini dettagliate dell'atmosfera di Marte qui vediamo la zona chiamata Chasma Australis vedete un bel banco di nebbia che passa sopra quindi la nebbia è umidità l'umidità è acqua foto del cielo marziano vedete delle belle nuvole in tutto e per tutto identiche a quelle che spesso e volentieri si vedono nei nostri cieli questa è una foto della Viking dove si vede un ciclone vicino al polo nord di Marte qui abbiamo il ghiaccio e abbiamo dei bei cicloni quindi sistemi nuvolosi complessi un'atmosfera rarefatta sì ma non così rarefatta da non permettere che ci siano degli importanti fenomeni atmosferici ci sono e come questa è una foto scattata da Hubble non sono riuscito a trovarla a colori il colore l'hanno tolto però si vede un ciclone anche in questo caso ancora più imponente questo è l'ingrandimento poi ho una ricostruzione ce l'hanno messa in vista dall'alto e vedete abbiamo un gigantesco ciclone al polo nord e marziano poi abbiamo un vastissimo sistema nuvoloso e una cintura un po' più lieve diciamo così di nuvole che abbraccia tutto l'equatore marziano per poi ridiventare molto intenso nell'altra parte qui quindi Marte ha importanti fenomeni atmosferici adesso abbiamo un breve filmato ripreso dalla telecamera di bordo dell'opportunity che è la telecamera che gli serve per inquadrare la strada dove deve passare però è un video la telecamera è stata puntata verso il cielo e si vede chiaramente il passaggio delle nubi ecco eccolo là se l'è perso scusate un attimo che lo linko il filmato purtroppo a volte quando chiudo riapro i progetti i powerpoint si perde gli indirizzi dei filmati lo rimetto un attimo ce l'ho su un altro disco vediamo se ce l'ho qui c'è qualche domanda nel frattempo? nessuna domanda? no purtroppo non ce l'ho va bene era un video in movimento comunque si vede il passaggio di questo piccolo sistema nuvoloso mi sono scordato nella fretta di trasferire il filmato da un disco ogni tanto a causa della stanchezza succede comunque si vede questo banco di nuvole nel filmato che avanza quindi un sistema nuvoloso normalissimo adesso abbiamo una foto questo è lo screenshot del sito della NASA dell'Iraes vedete nuvole ad alta a grande altezza sopra Marte sono queste celestine che vedete velano un cielo cosiddetto a pecorelle a cloudy day sembra quasi la reclame per un giorno da picnic su un bel campo su un bel prato marziano a cloudy day quindi un giorno nuvoloso e questa è la foto dove vedete c'è la velatura del sistema nuvoloso si intravede attraverso il velo delle nubi che qui sono abbastanza diciamo pronunciate appunto classico cielo a pecorelle si vede il terreno sottostante di Marte un altro sistema nuvoloso nubi sul cratere Liuxin vedete come sono quindi Marte è un pianeta atmosfericamente vivo quindi è un pianeta colorato è un pianeta atmosfericamente vivo qualche giorno fa ne hanno parlato tutti i media che la NASA ha ufficializzato che su Marte c'è l'acqua però è salata e ho detto beh cavolo ci facciamo un bello spaghetto marziano l'acqua è già salata al punto giusto quindi speriamo di arrivarci presto questa è la prima foto di Water on Mars una foto umoristica la prima foto esclusiva dell'acqua su Marte sul Mars ecco questa è una delle tantissime notizie che sono apparse su Marte scorrono fiumi di acqua salata non era mai stato detto quindi la NASA ha deciso di ufficializzare una cosa che è stata detta ridetta ridetta tantissime volte ovviamente nella totale distrazione della 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 gente questo è un articolo della stampa quindi su Marte scorrono fiumi di acqua salata poi sono minuscoli ruscelli ma sono fiumi o sono ruscelli mettiti d'accordo che compaiono periodicamente lasciando striature scure la cui origine era fino a oggi un mistero ma voi lo sapete che i satelliti che abbiamo in orbita sono talmente sensibili che sono in grado da orbita terrestre di individuare il petrolio nel sottosuolo identificare la natura di un liquido è la cosa più stupida che ci sia è una cosa che noi riusciamo a fare benissimo da tanti anni quindi quando uno pseudo giornalista scientifico Gabriele Beccaria mi scrive un titolo così o è un imbecille o è uno che ci fa perché non mi puoi fare un titolo così su Marte scorrono fiumi d'acqua salata però sono minuscoli i ruscelli che compaiono periodicamente i fiumi non compaiono periodicamente sono lì e ci rimangono tutto l'anno lasciando striature scure la cui origine era un mistero ma sei scemo l'origine era un mistero e adesso ve lo dimostro che non era assolutamente un mistero tra l'altro poi in altri articoli hanno pubblicato questa foto con un altro titolo da pedate sui denti mistero risolto c'è acqua su Marte liquida e salata quindi sto fatto che è salata l'acqua di Marte l'hanno ci hanno fatto due balle così questa è la foto ingrandita una foto allucinante una foto marziana dove il cielo è nero il ghiaccio è nero la terra è nera ma perché mi devi pubblicare una foto così che hanno fatto hanno semplicemente virato i colori al contrario al negativo ma che senso c'ha eccola qui riportata in positivo terreno di Marte marrone e neve e ghiaccio di Marte bianco è cielo chiaro sempre che non sia stato ritagliato non ho fatto non ho fatto le analisi per verificarlo allora amici se c'è su Marte neve ghiaccio e nubi esiste un ciclo idrico normalissimo anche sulla terra questo qui ciclo idrico la terra al contrario di Marte che di acqua ce n'ha ma rispetto alla terra in percentuale minore la terra è al 75% ricoperta da miliardi di tonnellate di acqua salata quando l'acqua evapora l'acqua salata evapora dolce non evapora salata perché se l'acqua del mare evaporasse con la percentuale di salinità che assaggiamo quando ogni estate rischiamo di annegare perché non sappiamo nuotare tanto bene la terra sarebbe sterile perché l'acqua salata uccide le piante fa morire gli animali e anche l'uomo se noi beviamo acqua salata dopo un po' moriamo ci si secca la pelle eccetera eccetera quindi il ciclo idrico presume forzatamente se hai un minimo di sale in zucca non nell'acqua in zucca presume che un qualsiasi ciclo idrico l'acqua è dolce quindi potrei anche ammettere un ghiacciaio di acqua salata ma quando l'acqua di quel ghiacciaio arriva alle zone più temperate di Marte ed evapora ed ricade sotto forma di neve come l'abbiamo vista quelle dolce non mi puoi dire che su Marte c'è l'acqua salata sei un delinquente e se noi ci crediamo siamo degli stupidi vuol dire che noi non ragioniamo cioè noi non ragioniamo a volte sulle cose più banali io ho litigato su Facebook con ragazzi che mi dicevano siccome sono a volte quando pubblicano notizie così vergognose e offensive per la nostra intelligenza io divento molto caustico quindi non salato caustico come la soda corrosivo è un ragazzo che aveva detto delle emerite stupidaggini alla fine se ne è uscito perché prima dicono le puttanate scusate la parolaccia dopo quando gli smascheri sono arroganti quindi non accettano si sentono umiliati per quanto io non lo voglia fare e allora dicono altre stupidaggine questo ragazzo mi ha detto ma tu mica c'hai il robottino come ce l'ha la NASA intanto primo mi dovresti spiegare chi è che ti ha garantito che la NASA dica la verità anche di quello che dice il robottino sei andato tu per caso a controllare no nessuno di noi può controllare i dati che la NASA tira fuori ti devi fidare e siccome mentono su tutto come vi ho fatto vedere perché dovrebbero dire la verità quindi su Marte ci sarà pure acqua salata ma in un ciclo idrico quelle nuvole sono d'acqua dolce quella neve è acqua dolce dov'è il problema amici? che se avessero detto acqua ovviamente Marte c'è la vita ecco che quelle foto che voi avete visto e il vostro cervello ha riconosciuto vegetazione il lago l'acqua ma è salata quindi devono dire che è salata cioè mentire perché se no dovrebbero dirci che su Marte ci sono le foreste ci sono i laghi e ci sono anche altre cose che dopo vedremo quindi l'acqua di Marte non è salata per lo meno l'acqua di quella brina che abbiamo vista in quella valle marziana per lo meno di quella neve che abbiamo visto sui monti marziani quella è acqua dolce e tutte le volte che scorre è dolce sempre accettando che quel ghiacciaio fosse di acqua salata cosa per me estremamente improbabile perché nei millenni il ciclo idrico l'acqua salata te la lascia solo nei mari i ghiacciai sono tutti di acqua dolce la notizia è una notizia vecchia vecchissima guardate un po' Mars Odyssey 2001 polo nord di Marte basso livello d'acqua H2O alto livello d'acqua H2O basso livello d'acqua nel ghiaccio ai limitari del polo altissima percentuale d'acqua dolce al centro del polo nord di Marte foto a colori dell'acqua marziana che nella bella stagione si scioglie e scende lungo i pendii di Marte what is flowing on Mars cosa sta fluendo su Marte tua nonna risposto io che sta fluendo su Marte ma che domanda fai 8 dicembre 2006 NASA su Marte scorre acqua anche recente l'avevano già detto ma siccome noi siamo distratti e pensiamo ad altre cose non ci accorgiamo e non percepiamo il livello di manipolazione di inganno e di raggiro a cui siamo sottoposti se lo fanno su Marte amici e qui torno a collegare le due cose col nostro vissuto ma vi pare che lo faranno sulla politica ma vi pare che lo faranno sull'equitalia ma vi pare che lo faranno sull'economia non lo faranno quindi noi siamo pesantemente costantemente presi per il sedere e non ci accorgiamo di notizie che escono non su un sito complottista Corriere della Sera 2006 sono nove anni fa e non c'è salata acqua salata non c'è scritta qui solo che hanno fatto hanno fatto un sacco di rumore e ci hanno svegliato un attimo dal nostro sonno perenne che tutti i giorni siamo così mentre loro si fanno gli affaracci loro soprattutto rubarci nelle tasche hanno squillato le trombe ehi sveglia c'è l'acqua su Marte salata però c'è l'acqua ma ce l'avevano già detto sapete da quando si sa questa notizia dagli anni 70 l'hanno detto poi l'hanno ridetto poi l'hanno ridetto poi l'hanno ridetto è una roba vecchia eppure siamo così manipolati e incapaci di fare memoria storica che non ci accorgiamo che ci prendono per il sedere notizia del 2006 ne ho preso una casa NASA su Marte scorre acqua anche di recente una sonda ha rivelato nuovi sedimenti in un'area che era già stata fotografata nel 99 dalla Mars Orbital Camera cratere marziano bianco e nero rigorosamente acqua che scorre qui non c'è perché è ghiacciata qui c'è perché si è sciolta lo ha annunciato l'agenzia spaziale americana l'avevano già detto sono certo dopo il clamore dei giorni scorsi fra tre anni lo rifaranno di nuovo e tu direi no c'è l'acqua amara su Marte no è salata no amara stavolta c'è l'alca seltzer su Marte foto dell'air ice ghiacciaio alpino su Marte tutto ghiaccio poi vi do i dati perché oltre a quell'immagine che vi ho fatto vedere prima questa qui che ci dice che al polo nord ci sono tonnellate d'acqua dolce H2O è acqua dolce non è acqua con cloruro di sodio magnesio eccetera come l'acqua marina acqua 2O è acqua dolce una considerazione se un giorno gli contestassimo questa cosa qui questa è un'osservazione acuta che ha fatto il mio amico ingegnere chimico Fabio Maggiore acqua salata in realtà è un termine scientificamente corretto perché nell'acqua dolce che noi beviamo tutti i giorni vi sono disciolti dei sali quindi anche l'acqua che noi percepiamo come dolce ha dei sali quindi è salata perché a volte sono anche furbi dice ma noi volevamo dire questo non che è acqua come il mare che è acqua dolce ma ha dei sali infatti voi dietro l'etichetta delle bottiglie di acqua che comprate al supermercato ci sono tutti i sali disciolti sono in percentuali basse e quindi il gusto è più dolce ma il sale c'è non è che non c'è quindi scientificamente non è sbagliato però induce nella testa di pensare all'acqua del mare non induce di pensare scientificamente che è acqua dolce con i sali e ragionano così ci maripolano così mezza menzogna e mezza verità oppure una verità messa in modo da farci percepire una cosa non vera appunto una manipolazione vi ricordate Hoover? l'individuo è menomato da una cospirazione talmente mostruosa da rendergli impossibile accettarne l'esistenza vi assicuro amici io sono 30 anni che studio queste cose è molto difficile e richiede molto tempo è una montagna di dati per spiegarvi quanto mostruosa pervasiva è incarnata dentro la nostra più intima profondità questa manipolazione bellissima foto dell'I-Rise anche questa questo è un altro sito d'archivi o poi di archivi la NASA ne fa c'è quello dell'I-Rise poi c'è questo del Jet Propulsion Laboratori poi ce n'è non lo so perché fanno così ti disorienta ghiaccio su la parete di un cratere marziano si vede chiaramente non essendo uniforme che è ghiaccio depositato da un movimento atmosferico perché evidentemente questa è la faccia esposta a nord quindi il vento che proviene da nord ha depositato sulla faccia del cratere contraria ha depositato il ghiaccio ma l'ha depositato trasportato dal vento quindi non è ghiaccio stanziale perché allora sarebbe stato tutto il cratere ghiacciato è ghiaccio depositato quindi è ghiaccio dolce e quando si scioglierà si scioglierà come acqua dolce se poi il terreno è salato va bene diventerà salata l'acqua ma diventa salata quando arriva giù ma l'acqua che c'è sopra è dolce quindi quello era lo screenshot della pagina dove viene presentata la foto e questa poi ci clicchi sopra e ti apre la foto in alta risoluzione vedete terreno non arancione ma classica terra marrone così come quella della terra si vedono benissimo vedete le scanalature che sono state create dall'acqua quando si scioglie e va giù notizia del 9 aprile 2015 quindi prima che dessero la notizia della presunta acqua salata di Marte il ghiaccio nascosto di Marte sul pianeta rosso ci sarebbero ascoltate bene oltre 150 miliardi di metri cubi di ghiaccio d'acqua nella notizia passata inosservata perché qui i tamburi mediatici non li hanno rullati quindi acqua dolce 150 miliardi di metri cubi di ghiaccio d'acqua distribuiti qui su queste due fasce nord e sud coperti da uno stesso strato di polvere quindi tu gratti un po' non essendoci mari su Marte vi sono delle gigantesche tempeste di sabbia che a volte che a volte ricoprono l'intero emisfero quindi figuratevi la potenza dei venti che sono in grado di ricoprire l'intero emisfero con una gigantesca tempesta di sabbia questo è il risultato di uno studio pubblicato sulla rivista Geophysical Research Letters di Marco Galliani l'articolo le linee blu queste qui indicano le zone dove sono stati individuati importanti accumuli di ghiaccio d'acqua coperti hanno spesso stato di polvere eccetera 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 e qui cominciamo a introdurre i nostri amici extraterrestri non so se voi tutti sappiate se non lo sapete ve lo dico queste analisi dei dati scientifici che io vi sto proponendo in realtà è una parte comunque molto importante della mia ricerca principale che è la ricerca sull'interazione dei popoli extraterrestri con noi terrestri quelli che pilotano gli UFO e sono decenni come vi ho detto in questi libricini trovate un sacco di queste comunicazioni con le loro straordinarie intelligentissime e veritiere spiegazioni sono decenni che questi esseri ci parlano ci spiegano ci insegnano ci dicono chi sono perché vengono e cosa vogliono e perché ancora non hanno contattato massivamente pubblicamente tutta la società umana e sto parlando di esseri per il quale il volo spaziale anche intergalattico è un giochino da ragazzi per loro le distanze di milioni o miliardi di anni luce non hanno nessun senso perché conoscono aspetti della struttura dello spazio e dell'universo a noi oggi totalmente sconosciuti sono frontiere sulle quali sta iniziando ad affacciarsi la fisica quantistica ma anche grandi scienziati come Einstein avevano teorizzato che lo spazio può essere curvato vi ricordate i motori a curvatura di Star Trek ecco lo spazio può essere curvato e quindi percorrere in tempi brevissimi distanze incommensurabilmente in termini lineari enormi abbiamo ad esempio i ponti di Einstein Rosen Einstein Rosen due scienziati i cosiddetti wormhole buchi di verme che sarebbero delle specie di corridoi scorciatoie che permettono di percorrere in tempi molto brevi enormi distanze e su questa notizia i fratelli extraterrestri ci hanno dato questa informazione se Tunchenar comunica in relazione all'argomento l'acqua e la vita su Marte prendete atto dei nostri reiterati messaggi e avvertimenti si sta riferendo a messaggi sin dagli anni 50 malgrado la congiura del silenzio posta in essere dai potenti incalza sempre di più l'acqua e la vita su Marte sono una verità millenaria che noi alieni avevamo rivelato a voi terrestri molti anni or sono del vostro tempo 1976 Eugenio Siragusa 1952 Giorgio Adamski Le rivelazioni favolose sul pianeta Marte non si sono ancora concluse un giorno non lontano i vostri mezzi spaziali filmeranno e fotograferanno le nostre astronavi i nostri bellissimi edifici e i nostri fratelli marziani da molto tempo già inseriti perfettamente nella nostra confederazione la verità può essere ostacolata ma mai fermata questa è la prima parte del messaggio e questa è la seconda il contatto con i nostri fratelli e amici marziani le immagini delle loro meravigliose ricchezze materiali e della loro evoluta civiltà avverrà quando i vostri astronauti appoggeranno i loro piedi nel suolo marziano dipende da voi se questo meraviglioso evento si compirà perché potrebbe essere che la vostra civiltà venga distrutta dalle forze della natura e solo pochi di voi meriteranno di conoscere altre civiltà e la gioia di viaggiare nell'universo a noi piacerebbe che tutti voi potreste essere degni ma dobbiamo purtroppo constatare che la razza umana non tutta per fortuna è nemica della creazione è nemica del creatore è nemica di se stessa perché suicida è nemica dei suoi pargoletti perché li massacra è nemica della madre terra perché la violenta è la inquina noi siamo pronti al contatto voi contrariamente siete pronti alla vostra autodistruzione speriamo nell'infinita misericordia di Dio ma anche nella sua immensa giustizia il comunicato come avete ascoltato è molto 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 duro talmente duro che a volte viene rigettato con violenza da chi lo ascolta dove sta il problema il problema sta in tutto quello e in molto altro che vi ho già detto cioè noi abbiamo una percezione della vita e della realtà del nostro mondo totalmente distorta e manipolata loro hanno i veri dati della reale situazione del nostro pianeta della sua condizione climatica della sua condizione biologica per cui non parlano in virtù di ciò che noi pensiamo sia vero loro parlano in virtù di ciò che è vero per questo i messaggi sono così duri vi ho fatto vedere un messaggio scusate un articolo prima dell'acqua su Marte questo è un altro articolo siamo nel 2010 quell'altro mi sembra 2006 fosse vedete altra foto dell'Iraes che dimostrano che su Marte vi scorre questi sono canali di scorrimento dell'acqua vediamo foto degli anni 90 dove questo fatto era chiarissimo sono foto vedete questo è un screenshot del sito NASA della MOC Mars Orbital Camera Mars Orbital Camera e vedete qui stesso cratere e qui l'acqua che scorre quindi la NASA sta cosa la sta da tempo anche qui vedete tutti i screenshot dei siti della NASA direzione del flusso eccetera eccetera quindi ma questo è pochissimo ad esempio abbiamo vedete qui nel fondo di questo cratere forse un lapsus quell'articolo che dice su Marte scorrono fiumi d'acqua perché vedete che ci sono ho un fiume ho un deposito d'acqua nel fondo di un cratere eccolo qui a colori vedete altri chiarissimi segni guardate quanta acqua sta scendendo qui qui addirittura questa è una foto che è stata ho preso da Google Mars qui tutto liquido ghiaccio che si scioglie questa è una foto dell'iRise c'è foschia atmosferica vedete l'acqua che scende giù dai pendii marziani questa invece è una foto scattata dal Mars Orbital Camera vedete una zona diciamo così dove c'è vegetazione questa stringa rettangolare è il modo in cui come vi ho spiegato le sonde orbitali scattano losanghe del pianeta che poi vengono raggruppate a creare l'intero quindi prendiamo adesso questa zona qui la ingrandiamo vedete qui c'è un cratere questo qui la ingrandiamo e guardate cosa c'è tanta acqua che scorre da questo cratere e un sacco di laghetti sembra quasi una palude più che un acquitrino in questa zona di Marte la la stringa è stata presa da una zona semidesertica ma qui vedete bene c'è una zona boscosa estremamente fitta e poi andremo a vedere che cos'è successo su Marte perché si trova in questa situazione quindi queste foto se le capiamo noi a semplice sguardo che non le capiscono gli essenziali della NASA certo che le capiscono però gli viene fatto il divieto dai loro capi di svelare la verità bellissima foto dell'Iraes con un bacino d'acqua marziano è una costa dove si vede dalla natura orografica del terreno che qui c'è stato uno spaventoso tsunami quindi è arrivata un'onda qui ha spazzato via tutto e nell'analisi di queste zone qui questi erano tutti i centri abitati quindi era una città costruita vicino a non so se sia un lago o un residuo di mare marziano ma vi sono strutture irregolari ovviamente il fatto che ci sia stato questo spaventoso tsunami è tutto semi ricoperto da detriti però ingrandendo la foto si notano con una certa chiarezza che vi sono qui un sacco di strutture irregolari che probabilmente sono appunto edifici abbiamo adesso visto soprattutto immagini dell'acqua marziana e del ghiaccio marziano scattato dalle sonde della nasa veniamo all'ente spaziale europeo che è una sonda molto sofisticata si chiama Mars Express dell'ente spaziale europeo ESA tra l'altro il radar che ha a bordo per lo strumento di analisi per cercare l'acqua è uno strumento che è stato costruito in Italia nella foto diciamo pubblicitaria della missione scientifica al solito ci ficca uno stoccavolo di pianeta che come abbiamo visto non è il vero Marte però la menzogna deve essere portata avanti questo ad esempio è uno screenshot della pagina dell'ESA dove è pubblicata questa foto anche in questo caso così come la nasa vedete si possono scaricare in alta risoluzione addirittura qui abbiamo mezzo mega 419k qui abbiamo 13100k quindi è una foto in alta risoluzione di 13 mega e vediamo un cratere marziano del polo nord con del ghiaccio vediamo la foto eccolo qui il ghiaccio come vedete è azzurrino quindi siccome il ghiaccio è ghiaccio d'acqua e bianco quindi riflette il cielo che non è arancione se no sarebbe arancione anche il ghiaccio ma riflette l'azzurro del cielo così come la neve la neve ghiacciata che c'è sui bordi del cratere quindi il vento probabilmente soffia in questa direzione qui la deposita lì vediamo l'ingrandimento vedete anche la neve è bianca ma con una leggera tonalità azzurrina poi se chiedete vi diranno no ma perché il colore vengono creati vi diranno un sacco di palle ma la prova assoluta che dicono menzogne sono le foto di Hubble o addirittura le foto dei telescopi degli astrofili dilettanti che hanno fotografato Marte da Terra che appunto come abbiamo visto ci fanno vedere che Marte è un pianeta che ha gli stessi colori della Terra questo è un bel fiume marziano o un residuo di un bacino fluviale fotografato dalla Mars Express la Ruel Vallis qui c'è una struttura semisepolta piramidale a tre facce perché appunto su Marte viene un'antichissima civiltà umana i marziani erano come i Pelle Rossa avevano quell'aspetto lì cioè umani come noi ma di quella razza ecco qui vedete abbiamo una foto della MOC Mars Orbital Camera vedete il bacino d'acqua qui è più ridotto si ferma qui non arriva alla piramide invece qui ce n'è di più vedete arriva fino alla parete quindi arriva fin qui qui ce n'è di meno ed è una foto che trovate tranquillamente sul sito dell'ESA così come la vedete l'acqua è blu vi ricordo lo ribadisco che l'immagine reale nel monitor è molto più dettagliata purtroppo sullo schermo del videoproiettore che ha una risoluzione bassa non si vede con tutti i dettagli però si vede chiaramente la struttura regolare piramidale tetraedrica e si vede chiaramente il bacino d'acqua che è stato fotografato però qui come vi ho detto ce n'è di meno dalla Mars Orbital Camera della NASA e dal satellite Mars Express dell'ESA e questa è la prospezione che è stata fatta dalla Mars Express su tre livelli della quantità di acqua presente sul polo marziano questa è nella banda nello spettro normale quindi vedete che è anche il ghiaccio del polo immagine del 23 gennaio 2004 e vediamo nello spettro normale il ghiaccio è azzurrino quindi l'atmosfera è azzurra qui abbiamo dunque questa è la CO2 quindi il ghiaccio secco cosiddetto e questa è l'acqua normale quindi lo strumento di analisi montato a bordo della Mars Express è così sofisticato che si sa distinguere il ghiaccio di anidride carbonica cioè l'anidride carbonica ghiacciata e il ghiaccio d'acqua e te lo dice spettro visibile spettro della CO2 spettro dell'acqua H2O ed è un'immagine che io ho scaricato direttamente dal sito dell'ESA andiamo su un'altra su un articolo che parla di questo fatto 19 marzo 2007 il polo sud di Marte le più recenti misurazioni del polo sud di Marte indicano la presenza di uno spesso strato di ghiaccio che se sciolto basterebbe a ricoprire l'intera superficie del pianeta di oltre 10 metri d'acqua cioè se si sciogliesse contemporaneamente tutto il ghiaccio marziano Marte verrebbe allagato per 10 metri di profondità quindi Marte è strappieno d'acqua miliardi di tonnellate ecco perché Marte destra grandissima attenzione per due motivi primo in caso di collasso totale dei sistemi biologici Marte rappresenta per l'élite un pianeta di riserva dove scappare ecco perché c'è questo enorme interesse due Marte avendo avuto una avanzatissima civiltà incuriosisce tra i militari che sono sempre alla ricerca di tecnologie per costruire nuove armi per mantenere il dominio ecco perché quella super macchina fotografica ecco perché la missione si chiama ricognizione e curiosità la curiosity quel super trattore ipertecnologico sta andando a ficcare il naso molto probabilmente in una città marziana l'hanno fatto atterrare in un deserto dal 2012 che cammina c'ha le ruote molto rovinate si sono addirittura spaccate in varie parti però lo stanno facendo avanzare e questo lo vediamo perché nell'analisi dettagliata delle foto in altissima risoluzione che arrivano da Marte la quantità di archeologia e di manipolazione quindi di occultamento di particolari presenti nelle foto aumenta sempre di più quindi si sta avvicinando ad una zona che era molto abitata e dove erano delle città è uscito qualche giorno fa un filmato su Youtube dove vi sono una serie di foto di una troupe della NASA che si trova in Islanda in una zona estremamente simile ai deserti marziani probabilmente hanno mandato la loro troupe lì perché le foto vere marziane della Curiosity che magari sta scattando nella zona abitata abitata anticamente di Marte le tengono occulte e pubblicano false foto scattate in Islanda facendole passare per foto marziane questo è il mio sospetto perché non ha senso che la troupe della NASA che ci fa in Islanda in Islanda scusate questo era Marte come era un tempo c'era un immenso oceano febbraio 2012 nuove importanti prove della presenza di un antico vastissimo oceano sulla superficie di Marte grazie ai rilevamenti della sonda orbitale europea Mars Express adesso ne stanno preparando un'altra ancora più sofisticata da mandare lì la domanda è l'umanità dice di non avere i soldi per estrarre l'acqua nelle zone aride però ha i soldi per cercare l'acqua su Marte la domanda è c'è vita intelligente sulla Terra? non è forse ci strappano a risata ma la domanda ha un senso molto profondo perché vengono investiti milioni e milioni di dollari in questa forma quasi ossessiva di continue emissioni su Marte adesso ce ne sono operative due o tre perché la Mars Express sta ancora funzionando il Mars Global Surveyor sta ancora funzionando c'è la Curiosity ci sono anche le altre sonde che perché Marte? per questo motivo che vi ho detto Marte è un pianeta gemello è un pianeta sufficientemente vicino è il pianeta che c'è poco prima giusto c'è Marte e poi la Terra ed è sufficientemente vicino da poter pensare di andarci con la nostra tecnologia antiquata spaziale a spinta lineare quindi c'è un progetto occulto che venne fuori già da anni fa lo chiamarono Alternativa 3 che le elite mondiali quindi i grandi banchieri i grandi industriali gli illuminati cosiddetti nel caso di collasso totale del sistema Terra dovuto sia alla gravissima condizione biologica del pianeta ma sia anche soprattutto adesso col rischio gravissimo di uno scontro nucleare tra i due blocchi orientale e occidentale le elite stanno cercando disperatamente una via di fuga su un altro mondo ovviamente solo loro a noi ci mollerebbero qui per questo l'apparente assurdità a parte l'egoismo e il fatto che non gliene frega niente dei poveretti che si devono bere quella roba lì iscriviti al canale